Cari amici, proseguiamo in questa serie di video nella quale parliamo di elementi minerali e dell'importanza degli elementi minerali per la salute dell'uomo, per la prevenzione delle patologie e così via. Oggi in particolare parliamo dello zinco. Lo zinco è un elemento minerale, un metallo, che si colloca nella tavola periodica degli elementi vicino al rame, cioè tutti quegli elementi molto importanti del nostro organismo. È interessante che dire una cosa, che lo zinco è poco abbondante sulla terra, sulla crosta terrestre, è il ventitresimo elemento in quantità nella crosta terrestre, è il secondo elemento più importante e più abbondante nell'uomo dopo il ferro. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'uomo tende, diremmo il nostro organismo, ad accumulare lo zinco perché gli serve. Un po' come si dice per lo iodio, lo iodio è raro in natura, però l'organismo lo cerca perché serve per il pancreas, per la mammella, soprattutto per la tiroide e così via. Quindi è un elemento molto importante che è necessario all'uomo, però è relativamente raro in natura, questo è importante. E a cosa serve l'uomo? Serve soprattutto per la crescita, per la crescita e anche per il benessere dei tessuti. Difatti se noi andiamo a vedere qual è la ghiandola che dipende un po' dallo zinco è in particolare l'ipofisi, che è la ghiandola che con i suoi ormoni è crofica per tutti i tessuti, dai organi sessuali alla tiroide eccetera eccetera. Ha un ruolo molto importante perché entra in tantissimi processi enzimatici, perché avvengano delle reazioni chimiche nel nostro corpo che avverrebbero lentissimamente e quindi non sarebbero utili per la vita, si deve essere quasi sempre un metallo che le catalizza, che le rende più veloci. Ebbene lo zinco è un grande catalizzatore di reazioni enzimatiche, quindi permette, entra proprio in 200 reazioni enzimatiche attivandole. Quindi capite? È estremamente importante. Dove? A livello per esempio della utilizzazione degli zuccheri. Il cervello vive a zuccheri, l'energia viene in gran parte ricavata dal glucosio e lo zinco coordina l'utilizzazione dei zuccheri. Noi vediamo che per esempio a livello del pancreas l'insulina viene prodotta, però si forna poi un legame all'interno dell'insulina nel quale il legame viene impacchettata da un atomo di zinco in modo che l'insulina venga poi rilasciata. È anche importante lo zinco per la prevenzione del diabete, per esempio. Poi lo vediamo importante in tantissime altre problematiche del nostro organismo. Quindi anche per esempio il sistema immunitario dipende moltissimo dal suo funzionamento dalla presenza di zinco. L'abbiamo visto adesso nella recente pandemia di Covid, tantissimi prodotti che venivano dati per il sistema immunitario e poi andiamo a guardare c'è una piccola quantità di zinco dovunque, perché lo zinco è tra tutti i metalli il più attivatore delle difese. Possiamo dire che lo zinco attiva le difese un po' in generale a lungo termine e in maniera molto profonda, il rame invece attiva le difese più velocemente, quando uno ha un'infezione e c'è da reagire subito, magari con la febbre che è una modalità di reazione, ecco che serve la mobilizzazione del rame. Invece lo zinco è la difesa generale in fondo. Ed anche tutti i nostri tessuti, anche per esempio la bellezza della pelle, è legata allo zinco. Se noi abbiamo per esempio delle problematiche cutanee di tipo gizematoso o anche di tipo foruncoloso, molto spesso con lo zinco migliora questa situazione. Quindi vediamo che lo zinco è una sorta di antibiotico naturale, per esempio, nell'acne giovanile, oltre alla vitamina A, una cosa da dare per esempio è lo zinco. Quindi è molto molto importante come elemento di riequilibrio e di sostegno di tutti i tessuti. Quindi zinco, ruolo di catalizzatore enzimatico, zinco ruolo di stabilizzazione delle cellule anche. Poi zinco è anche che entra nella salute di un organo importantissimo, di cui ho parlato tante volte, che è il timo. Quell'organo che nel tempo, con l'età si atrofizza, però rimane sempre un nucleo di questo organo che ha un effetto importantissimo sul sistema immunitario, che è il timo. Ebbene, lo zinco assieme al selenio sono i due elementi minerali importantissimi per il timo, che a sua volta è importantissimo nel sistema immunitario. È essenziale un apporto di zinco giornaliero, che dobbiamo supplementare perché ne troviamo poco negli alimenti, anche se in alcuni alimenti c'è, come poi vedremo. Poi l'altra cosa estremamente importante è il ruolo neurologico dello zinco. Per esempio, i recettori dell'olfatto e del gusto sono dipendenti dalla presenza di zinco. Ricordiamoci tra parentesi che uno dei problemi che c'era con il Covid è che tipicamente si perde l'olfatto e il gusto. Quindi allora zinco, prevenzione dei danni da Covid, ma anche cura delle conseguenze del Covid. Questo è molto interessante poi nel momento in cui stiamo vivendo. Un'altra cosa importante, quando nel nostro organismo manca un elemento importante, viene sostituito da altri elementi, per così dire, simili, ma spesso tossici. Quindi se noi guardiamo la tavola periodica degli elementi, lo zinco è dello stesso gruppo del cadmio e del mercurio. Se per esempio noi abbiamo poco zinco perché non lo supplementiamo o non lo assorbiamo, per esempio, con gli alimenti, lo zinco lo troviamo soprattutto nella carne, nel fegato, nelle frattaglie, in questo tipo di alimenti, oltre che nei semi, il nostro corpo assorbe di conseguenza il cadmio. È una sostanza che troviamo nell'inquinamento dell'aria molto pericolosa perché è una delle ragioni, una delle tante ragioni dell'ipertensione arteriosa. Non solo il diabete può essere una conseguenza della carenza di zinco, ma anche l'ipertensione che alcune volte è legata al culo del cadmio può essere una conseguenza della carenza di zinco. L'importante è sempre vedere lo zinco come elemento maschile, soprattutto. Nella donna lo zinco è importante per il progesterone, ma nell'uomo è importante per il testosterone. E come il rame è l'elemento tipico femminile, il rame in un certo senso è l'elemento estrogenico, di cui parleremo peraltro più avanti, possiamo dire che lo zinco è l'elemento tipicamente maschile ed è l'elemento che aiuta la prostata. Noi sappiamo che inevitabilmente nell'uomo c'è un'evoluzione verso l'ipertrofia prostatica e addirittura verso i 90 anni o 100 anni, se noi facciamo le autopsie a queste persone, troviamo quasi sempre nel maschio un piccolo cancro alla prostata. Ebbene, lo zinco è la prevenzione sia dell'ipertrofia prostatica che del cancro alla prostata. Quindi in un certo senso è la prevenzione dell'invecchiamento sostanzialmente, perché è un trofico per i tessuti, quindi è estremamente importante l'apporto di zinco. L'apporto di zinco, che ripeto, noi possiamo trovare nei semi. Sono tutti ricchi di zinco perché la natura ha bisogno di zinco per crescere. Ecco, anche un bambino che cresce poco, dobbiamo dare zinco. Lo zinco è l'elemento della crescita, non a caso è l'elemento dell'ipofisi. Non solo è importante per il bambino che cresce poco, ma è anche importante per il vecchio che tende a diventare più piccolo, perché le due cose sono speculari. Quindi per tenere in forma l'organismo è importante l'apporto di zinco. Dov'è che troviamo lo zinco? Nei formaggi, lo troviamo nei funghi, soprattutto nello shiitake, lo troviamo soprattutto, come dicevo poco fa, nei semi. E nell'ambito dei semi lo troviamo soprattutto nei semi di zucca. Quando si dice, per esempio, i semi di zucca fanno bene la prota, si fanno bene la prota soprattutto perché sono un apporto importante di zinco. E' importantissimo in tutti gli uomini tener conto dello zinco come prevenzione non solo del diabete, ma anche la tendenza alla atrofia tessutale e la perdita di forza muscolare e la perdita di struttura che porta a questa diminuzione anche della statura, tanto spiacevole diminuzione della statura che vediamo spesso nell'anziano. Arrivederci al prossimo video.